Yes, Italia-Armenia, yo, no, manco ci scaldiamo che gol 0-1 al sesto incassiamo, yes, testo del match Italia-Armenia, insegne per Aquilani che tira alto, seriamente, quasi 1-1, Palo ci pensa di testa, Florenzi gol, fine primo tempo e per ora non si segna, anche se mi sembra che insegne, insegna, Pirlo fa un fallo, siamo al cinquantesimo, Balotelli entra, aspettiamo l'incantesimo, esce Osvaldo, ha molito Pasqual, ma il gol è nell'aria, chi segnerà? Az, Armenia, 1-2, ora entra Rossi, manca un quarto di ora, ma 2-2, Balo, pareggio e i mondiali ora pronti qui, andiamo, yeah, lo spacchiamo però i mondiali, no il pareggio, dobbiamo vincere, yo,